L'hanno definita Misano Connection, questa nuova operazione dei carabinieri del nucleo provinciale di Rimini che ha permesso l'arresto di ben 5 persone con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. A finire alla sbarra anche un notissimo avvocato di Misano Adriatico, Guglielmo Guerra, che si è visto ricevere l'ordinanza di custodia cautelare con l'accusa di essere nei fatti la mente di un vasto giro di ragazze squillo che ricevevano i clienti in svariati appartamenti di sua proprietà, da cui traeva migliaia e migliaia di euro al mese in affitti. L'operazione è molto importante anche visto il fenomeno di cui si tratta. Il reato contestato è associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento, al favoreggiamento e all'induzione alla prostituzione. Sono stati arrestati 5 personaggi, tra cui un italiano avvocato, quindi anche persone facoltose. Altri due erano imprentitori, quindi non parliamo di persone che dovevano per forza utilizzare questo mezzo per vivere. L'hanno fatto perché avevano proprio intenzione di delinguere e quindi di sfruttare qualcosa che la prostituzione è anche un reato molto deprimevole da contestare. Nella fine dell'operazione sono state sequestrate 14 unità abitative. In effetti l'avvocato, quanto facoltoso, aveva la possibilità di gestire molte abitazioni, ma quasi tutte, se non tutte, venivano gestite in questo modo, cioè favorendo e sfruttando la prostituzione.